5 ore, vado a trovarci per Paolo Sileri, lo vedo, lo vedo, Sileri devo fare gli auguri, una notizia bellissima, ha avuto un meraviglioso bambino, si chiama Michelangelo, io le faccio gli auguri di cuore, è una notizia bella, ha piaciuto un momento così, quando nasce un bimbo è sempre un raggio di sole per il mondo, secondo me, detto questo volevo mostrare una foto bellissima che lei carinamente mi ha mandato, ma non lo faremo perché mi ha detto che ho un momento in cui lei ha la sua privacy. Sì, ho diverse pressioni, qualche minaccia, stamattina sono dovuto andare a fare un esposto per, a mio avviso, delle pressioni in debite che ho ricevuto, poi sarà la procura, perché dobbiamo avere sempre fiducia nella procura e negli investigatori che, diciamo, delimeranno il perimetro di queste pressioni che ho avuto e capiranno se sono debite o indebite o normali o quant'altro, però a volte quando ti metti contro il sistema questo è quello che devi pagare, ma vedi, come ho già detto settimane fa, io rimango al mio posto e me ne infischio. Va bene, mi sembra, ora si arrivi.